E siamo qui al Moto Days 2013 a Roma nello stand GPR con Fabrizio, Roberta e Roberta. Fabrizio ci vuoi illustrare il vostro stand, che cosa vi occupate, la vostra ditta? Sì, allora la nostra ditta è la GPR, produce scarichi per moto e scooter di tutte le marche, che lavora completamente prodotte in Italia, progettate e prodotte in Italia e distribuite sia sul territorio nazionale che internazionale, con materiali che vanno dal carbonio all'inox. Il terminale migliora molto le prestazioni della moto, immagino, anche il consumo, oppure è anche a un livello estetico, migliora anche la moto esteticamente? Allora, il terminale di per sé fa guadagnare poco alla motocicletta, se non in fattori di esteticità. Con uno scarico completo si ha un aumento abbastanza importante sui cavalli. Per quanto riguarda quelli che vengono prodotti dal GPR, fondamentalmente sono tutti in versione omologata, quindi con di B-Killer estraibile per l'uso in pista e omologate, che non danno tanta potenza quanto un decremento del peso e un incremento relativo dello spunto della moto, come si suol dire. Quindi diamo dei riferimenti per la vostra, per trovarvi, voi siete di base, hai detto, a Milano, e il sito di riferimento? Il sito di riferimento è www.gpr.it, che è il sito ufficiale, da lì ci sono tutti i contatti sia nazionali che internazionali. Ti ringraziamo, quindi un saluto e un saluto di nuovo alla bellissima. Roberta, grazie. Ciao a tutti, grazie.